Sfiorata l'impresa Soddisfatto del gol, il secondo tra coppietà del campionato, Gomes ha chiaro il suo obiettivo stagionale. Devo continuare così, devo migliorare la stazione scorsa che ho fatto 4 gol, quindi questa gara ho fatto il gol e sono molto contento. Pomeriggio la ripresa della preparazione a Torre del Grifo per i Rosso Azzurri, attesi domenica prossima dalla prima al Massimino contro il Genova. Lavora intensamente, siamo agli ultimi 4 giorni di mercato, la D-Day etnei Sergio Gasparin, sfruttire la rosa e il suo intento. Ricchiudi ad un passo dal Grosseto, mentre Giamma interessa il Palermo. Giorgio Perinetti ha confermato che il rosa e nero seguono l'esterno argentino per potenziare la fascia sinistra. Lo scivolone interno è in Napoli. A casa con cui, cominciare a andare a panza, con questa moglie che ci passa avanti la televisione, che piacere. Lo stadio è sempre lo stadio, ma la crisi non dà scampo e anche gli ultimi riducibili della domenica quest'anno si sono arresi allo strapotere delle televisioni e soprattutto all'incombenza della crisi economica. Dalla Serie A alla Lega Pro, da Milano a Trapani. In tutta Italia il dato sull'acquisto degli abbonamenti è impicchiata. La crisi e la recessione quindi hanno colpito anche la campagna abbonamenti del Catania che ricordiamo si chiuderà in prossimità della gara casalinga contro il Napoli del 23 settembre. Poco più di 8.000 le tessere vendute finora, 29 solo ieri dopo la splendida prestazione del Catania all'Olimpico contro la Roma. Sta benissimo lei con Sky, Mediaset, queste cose. Quest'anno mi sono convinto, dico spendiamolo questi soldi, speriamo che siano stati spesi bene. Mi pare un poco difficile. Per la crisi? Soprattutto per la crisi. Sembra arduo raggiungere l'obiettivo 10.000 tessere fissato dalla società. Per fortuna però c'è ancora chi allo stadio non riesce a rinunciare. Mi ha convinto mia moglie che non mi vuole a casa e mi ha detto vai vai. La signora cosa dice? No, no, vabbè io sono contenta, sono felice, è una passione che lui ha quindi accontentiamolo volentieri. Situazione pressoché identica anche a Palermo, 9.230 gli abbonamenti staccati, il 27% in meno rispetto alla passata stagione. La crisi e la delusione per la mancata promozione in Serie B invece hanno influito sul calo degli abbonati a Trapani. 880 l'anno scorso, ad oggi sono poco meno di 700. scoraggiante la situazione in Serie D, un esempio, a Paternò sono stati venduti appena 40 abbonamenti.